oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi nel video news tantissime novità dedicate al futuro di fortnite un bel po di controversie che si stanno accendendo nei forum vi farò vedere un pochettino cosa sta fomentando un po la rabbia dei giocatori ma vedremo anche un sacco di roba interessante riguardante la nuova modalità tempo limitato volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator nello shop xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del mio video delle 13 e 30 ma appunto parlando per quanto riguarda le news si parla anche di notizie relative agli elicotteri abbiamo dei nuovi dati che potrebbero essere interessanti delle nuove location dove spawneranno gli elicotteri non vedo davvero l'ora di farveli vedere ma prima comunque la domandina ragazzi tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi è molto molto interessante ma qual è la tua location degli agenti preferita quella insomma tra le cinque che ci sono in giro per la mappa qua ne vediamo alcune a me personalmente piace tantissimo lo yacht non ci atterro mai spesso perché proprio in fondo in fondo però è veramente molto molto carino tanta roba tanta roba da vedere difficile ovviamente da buttare giù il signor miascolo però dimmi qual è la tua preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a leggere la prima novità trovata proprio nelle ultime ore nei file di gioco sono state aggiunte vi traduco direttamente dall'inglese all'italiano alcune stringhe relative agli oggetti e le stringhe dicono questo oggetto cambierà in base al giorno non si sa se sia un cambiamento non si sa intanto di che oggetti si parla ma si pensa coperture quindi roba reattiva delle armi potrebbero cambiare in base al numero di giorni che vengono utilizzate consecutivamente oppure potrebbero cambiare in base al giorno alla notte ma quello già lo abbiamo su alcune robe reattive tipo i picconi quindi una un progetto molto interessante che stanno iniziando a sperimentare quelli di epic games e anche invece questo oggetto cambierà mentre il la tua arma sta spazionando quindi fire dovrebbe essere è nel momento in cui sta sparando quindi potrebbe essere un nuovo modo di rendere reattive le coperture oppure le armi stesse non si sa ancora non si capisce è proprio l'inizio di un nuovo progetto io ve lo faccio vedere speriamo di avere le idee più chiare nei prossimi giorni e andando avanti ragazzi guardate un pochettino questa immagine qua siamo praticamente nella location della grotta avete presente quella che c'è vicino a moli molesti e se andiamo a vedere dalla parte della spiaggia si nota che c'è proprio la forma la figura di un teschio che deve essere proprio il teschio dei fantasmi quindi della fazione ghost dovrebbe essere una modifica morfologica a questa location in base a quante persone hanno scelto la variante di brutus quindi sembrerebbe che globalmente quindi tra tutti i giocatori del mondo abbiano selezionato la fazione dei fantasmi e quindi la location si è modificata è molto probabile ragazzi quasi certo che adesso si modificheranno nella mappa tutte le altre location e la prossima potrebbe essere quella dove c'è tnt tina tra l'altro ne approfitto per far vedere un breve video ragazzi che vi mostra le varianti di tina grazie a tutti grazie a tutti e anche qua ragazzi dovremmo fare la scelta di scegliere la nostra fazione quindi di schierarci dalla parte degli spettri o da quella dei fantasmi a voi qual è che preferisce quelle che preferite per tina magari fatemelo sapere qua sotto se vi va e andando avanti ragazzi voglio di nuovo farvi vedere una clip perché è un qualcosa di incredibile la commentiamo mentre la vediamo molto velocemente guardate si parla proprio di aim assist quindi della capacità per chi gioca da controller di avere un pochettino più il vantaggio di mirare nella parte sinistra vediamo cosa sta succedendo in game quindi come vedete si continua a mirare spammando prepotentemente il tasto sul controller mentre nella parte di destra il replay ci fa vedere come la la mira quindi lei ma assist vada proprio nella parte tra il corpo e la testa del giocatore avversario basta semplicemente avere un minimo di idea su dove sia l'avversario a cui vogliamo sparare e guardate è veramente allucinante questa cosa tanto per farvi capire per sostenere uno degli argomenti più dibattuti del panorama degli ultimi mesi di fortnite è giusto avere un matchmaking tra chi utilizza da pc mouse e tastiera insieme a chi utilizza il controller secondo me no e questa è la chiara motivazione guardate lui va di nuovo a utilizzare questo spam del tasto per mirare come vedete è veramente incredibile quanto il mirino cada e continui a rimanere locato sull'avversario nonostante come state vedendo ci siano addirittura delle pareti che si sovrappongono tra il muro e il giocatore che sta sparando è veramente assurdo addirittura si arriva al punto in cui lui può tranquillamente sparare e fare tantissimo male insomma ragazzi un qualcosa di veramente assurdo bisogna a tutti i costi sistemarlo perché non è possibile essere sempre laserati ed essere sempre presi in headshot anche in situazioni veramente esagerate quindi una cosa che ci deve sicuramente far pensare e prima ragazzi di arrivare al termine delle news di oggi volevo farvi vedere il backpack che ci verrà regalato con la settimana numero 3 delle sfide di deadpool lasciate perdere che il backpack è nella stessa sezione delle skin stiamo semplicemente vedendolo devo dire che è meraviglioso un regalo il più bello indiscutibilmente tra tutti quelli che abbiamo ricevuto vi ricordo lo spray di deadpool che cavalca il lama e poi nuovamente lo spray della granata che arriverà in realtà o è già arrivato non me lo ricordo ma questo backpack è veramente tanta roba anche perché se non vado errato la skin segreta di questa season sarà proprio deadpool è davvero tanta tanta roba qui intanto andiamo a vedere che le challenge per questa settimana saranno di trovare proprio la katana le katane di deadpool vi farò dei video su dove trovarle qua sul canale e di fare danni alle strutture degli avversari insomma ragazzi le news non mancano io vi cerco sempre di tenere aggiornati vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao 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 ciao